All'interno della stanza del capogruppo, con i vari senatori, c'è una commissione che viene convocata nell'emore della sospensione dell'Aula e il capogruppo della commissione, che è Dario Temari, il sottoscritto, è l'ultimo perché normalmente le convocazioni vengono fatte di concerto nel capogruppo, tra il Presidente e il Vice Presidente della Commissione, ma chi decide, concorda la linea dei tempi, è il capogruppo. Il capogruppo ha parlato con il Presidente della Commissione e gli ha detto scendiamo fra un quarto d'ora perché era quello il tempo necessario. Siamo arrivati entro un quarto d'ora e purtroppo...